Ciao ragazzi, ciao a tutti, siamo sulla Punto a Metano ancora E questo però è l'ultimo viaggio Questo purtroppo sarà l'ultimo viaggio, l'ultima sera della nostra Punto a Metano Ma sarà una grande sera Del 2005 E motualmente lunedì vedrete la nuova Punto Con tanto di evoluzione Con tanto di evoluzione di trailer Come un Pokémon che si evolve Non vi anticipiamo niente di più, vedrete tutto E niente, che dire, dobbiamo ringraziare questa macchina Che ha sostituito molti anni Sì, nove anni, sono stati nove anni bellissimi Di cui quattro da quando io ho la patente Ci ha portato un po' ovunque A mete improvvisate all'ultimo come quella di stasera Esatto, ha portato fortuna Non ha conosciuto limiti Siamo andati al mare, in montagna Siamo andati un po' ovunque Quindi salutiamo tutti la Punto a Metano 2015 Seguiteci sempre sul nostro canale YouTube Su Facebook, su Twitter E andate a visitare pure le nostre pagine E i nostri siti che sono sempre aggiornati E soprattutto aspettate le nuove puntate Le nuove puntate, la nuova serie Che comunque stiamo girando in questi giorni Che è il viaggio della Punto a Metano nel Veronese E tra poco ci sarà anche... Facciamo una piccola anticipazione, dai Ci sarà anche il viaggio del lago Intorno al lago di Garda E quello sarà molto bello Sarà una mini serie Speriamo che venga molto bene, dai Sicuramente Non saremo sempre e solo noi due Tranquilli Ma ci sarà anche altra gente E soprattutto ragazze Ci saranno anche ragazze, tranquilli Quindi che dire Buona serata a tutti E un saluto da noi Dalla Punta a Metano Alla prossima Ci risentiamo